A Vallo della Lucania, Piazza Vittorio Emanuele sarà riaperta al traffico, ma in determinati giorni e orari. Sul vecchio percorso, le auto potranno tornare a transitare, ma non a parcheggiare. Nella seduta di venerdì, la Giunta Comunale, nel rivedere il piano viario relativo alla piazza principale della città, ha deciso di disporre la revoca del divieto di transito in vigore da un anno circa. Divieto che comunque sarà presente anche nel nuovo regolamento, ma non interesserà tutti i giorni dell'anno. Secondo quanto stabilito, le auto potranno transitare solo nei giorni feriali. Dal sabato mattina fino a mezzanotte della domenica e durante i festivi, in Piazza Vittorio Emanuele, sarà in vigore l'isola pedonale. La Giunta ha poi deciso di non consentire, nei giorni di apertura al traffico, la sosta delle auto lungo tutto il percorso circostante la piazza. Una decisione, quest'ultima, che non piace ai commercianti in agitazione, quelli che da mesi si battono per la riapertura al traffico del vecchio percorso. Se è vero che non sarà consentita la sosta, dicono, vuol dire che chi vorrà fermarsi solo per un istante nei nostri negozi non potrà farlo e se lo farà sarà multato. Ora bisogna capire quando le decisioni assunte della Giunta entreranno in vigore ed anche i suoi contenuti. Per il momento, fatta eccezione gli assessori, nessuno sa esattamente cosa è stato scritto nel documento licenziato dall'esecutivo. Attendiamo di sapere ufficialmente cosa è stato deciso, afferma il capo dell'opposizione Emilio Romaniello, fermo restando che ritengo opportuno che l'argomento venga discusso in consiglio. Per questo mi sono appellato al perfetto ed attendo una sua risposta. Una storia lunga quella della piazza a Vallo della Lucania che probabilmente con un po' di serenità da parte di maggioranza e opposizioni poteva già da tempo trovare una soluzione condivisa. Grazie a tutti.